Un saluto dal Tg della Mobilità nell'area di Piazza Venezia. Lavori di manutenzione del manto stadale su via San Marco dalle 10 di questa mattina e sino alla chiusura del cantiere prevista per le 5 di domani mattina saranno chiusi al traffico via San Marco e il lato di Piazza Venezia di fronte a Palazzo Venezia. Sono deviate 11 linee di bus diurne e 8 linee notturne. Allezimento notturno delle luminarie natalizie a Via del Corso per lasciare spazio a questo intervento per 5 notti da quella odierna a quella tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre, 10 linee notturne saranno deviate. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.